Incidente nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio intorno alle 15.30 sulla strada provinciale per San Giusto a San Giorgio Canavese. Un camion per il trasporto terra e massi è uscito di strada e si è ribaltato adagiandosi su un fianco nel fosso che costeggia la carreggiata, quando si è inclinato al mezzo pesante ha perso il carico che ha colpito un palo telefonico rendendolo pericolante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, l'ambulanza del soccorso avanzato sul canavese di Caluso e i carabinieri. Il lesa l'autista del camion che è stato comunque controllato dal personale 118. e il passato a San Giorgio Canavese. Il passato a San Giorgio Canavese. Un'altra